Qui abbiamo invece Marco Fraternali, ciao Marco! Ciao, saluto a tutti! Questa sera cosa ci presenti? È una mia canzone, si chiama Danza con me, è un pezzo che ho scritto Musica e Parole, l'ho provato a presentare in diversi concorsini e vediamo un po' come può andare questa sera. E cosa sei? Quindi un cantautore? Un cantautore. Quanto è difficile la carriera di un cantautore in Italia? Posso dire impossibile? No, è difficilissimo, bisogna avere i classici fattori fortuna, fortuna, fortuna e bravura. Però sono tre fortuna e una bravura, il momento giusto, il posto giusto, fa parte della fortuna e è molta tenacia. Io spero di poter continuare ad andare avanti. Si comincia? Si comincia, quindi li congediamo, tranne uno, il primo che dovrà esibirsi questa sera, che rimane con noi, ovvero Marco Fraternali. Ok, un bocca al lupo a tutti, un bel applauso! Salutiamo tutto il gruppo che aiutiamo a sgattaiolare via, a preparare chissà che tensione. Tu che sei qua direttamente, non ti sei potuto neanche rilassare. No, nemmeno un attimo proprio. Sei il primo, devi rompere il ghiaccio e non fare quella faccia lì perché ho detto ghiaccio. Fate un bocca al lupo a tutti questi ragazzi, lui è il primo che li rappresenta a tutti, un bel applauso, Marco Fraternali! Prima di lasciarlo alla voce, ricordiamo che lui proporrà un pezzo inedito, quindi non conosciuto, scritto da quali autori? Scritto testo e musica da me, da Marco Fraternali. Benissimo, autore e interprete del brano Danza con me, Marco Fraternali. In bocca al lupo! Grazie, grazie. Mi dici danza con me, danza con me, danza con me, danza con me. Stringiti a me! Stringiti a me! Maniche tutto intorno a noi, ritmo che scorre dentro a noi, batte più forte più che poi, e segui il tempo, balliamo fino a che poi, non resterà nessuno più intorno a noi, non è bellissimo. Puoi visti i fianchi così, poi fermati e guardami, sexy così, è tutto un fuoco ormai. Mi dici danza con me, danza con me, danza con me, danza con me. Balla con me, balla con me, balla con me, stringiti a me. Siamo qui, questo fuoco e noi, c'è qualcosa di magico, dimmi che anche tu lo vuoi, ti prende dentro e guarda per noi, fino a che poi, non svanirà tutto tra noi, come una favola. E come supereroi, lottiamo e poi, vinciamo noi, e voleremo come una rondine. Mi dici danza con me, danza con me, danza con me, danza con me, stringiti a me. Ti prego danza con me, danza con me, balla con me, balla con me, legati a me. Balliamo fino a che poi, non resterà nulla tra noi, nulla tra noi, fino a che vuoi. Adesso danza con me, danza con me, balla con me, balla con me, rasta con me. Grazie, grazie. Marco Fraternali, grazie.